esiste un solvente chimico potentissimo questo è così potente che anche se integrate dosi piccolissime inferiore a un solo centimetro al cubo è capace di distruggere un evento domestico è ilustionante all'altra catturatura a quanto pare filtra anche nel terreno risultato che foglie e frutti di una pianta dove questa roba è passata ne sono impregnati non solo, è molto volatile quindi evapora, si diffonde in qualsiasi ambiente è stato rilevato nel sangue degli atleti che fanno uso di topi è il 99% delle cellule tumorali legge anche mai, è stato notato che se una madre incinta assorbe questa sostanza la trasmette attraverso la placenta anche al feto è stato anche dimostrato che le basi della Nato lo usano da sempre e lo trasportano con dei condotti sotterranei controllati dalla struttura governativa apposita e lo suo uso è usato anche nelle centrali nucleari ed è la base delle armi chimiche e batteriologiche e la cosa più grave direi è che viene utilizzata a tantissimi multinazionali per i prodotti dolciari dell'infanzia si ottiene dagli oli instabili dell'ossigeno nella vera età comunemente d'acqua ok? 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 ok?